L'edizione 2017 di Stanini Nostrani ricalca quello che è stato già seminato lo scorso anno e che ha portato tanti buoni frutti grazie alla collaborazione delle operatrici dell'Arce, del Caos, dell'Indisciplinarte e di diverse altre strutture. L'anno passato abbiamo lavorato sui temi del cibo e dell'integrazione, quest'anno siamo passati, mantenendo fede agli stessi temi dello scorso anno, però al versante della musica e della ritmica. Partiamo con un laboratorio di musica, in particolare di ritmica indiana e proseguiremo poi nei mesi successivi con altri appuntamenti di cui però ancora possiamo dire soltanto alcuni accenni. La seconda edizione di Stanini Nostrani si caratterizzerà con due giorni di workshop, il 24 e il 25 marzo presso lo studio 1 del Caos, workshop tenuto da Rashmi Bhatt, artista musicista indiano, molto polietrico perché comunque ha fatto anche l'attore tra l'altro, che ha collaborato tra gli altri con Shakira e Sting. Successivamente ai workshop lo vedremo protagonista durante la serata del 25 marzo, sabato sera, sempre presso lo studio 1, insieme a un altro artista persiano, Pejman, durante un'esibizione dai ritmi e dai sapori medio orientali. Ci troviamo qui al Caos come uno degli spazi di integrazione a Terni, uno spazio che è al centro e quindi è comodo per il raggiungimento, ma non è il solo e siamo qua per quest'anno per questa edizione dedicata alla musica come metodologia, se è una parola che non mi piace, però uno dei pretesti per fare integrazione, come la musica l'anno scorso la cucina, chissà il prossimo anno quale altra arte e quale altra cosa strana, come sta appunto nel nome del nostro evento, che è Stranieri Nostrani, dove c'è la parola strano e la parola nostro. Grazie a tutti.